indicazioni chiare sulla celebrazione dei sacramenti arrivano all'indomani dell'ultima riunione della conferenza episcopale campana in un messaggio che i vescovi indirizzano a tutti i sacerdoti linee unitarie valide per le diocesi della campania su alcuni aspetti della celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza sanitaria linee guida che presuppongono una lettura sapienziale dell'epoca storica che stiamo vivendo si dà la possibilità di celebrare le prime comunioni del nuovo anno pastorale a condizione che sia premesso un congruo tempo di catechesi la celebrazione dovrà avvenire secondo le prescrizioni sanitarie vigenti e preferibilmente a piccoli gruppi rispetto alla celebrazione di questo sacramento la diocesi di nocere inferiore sarno dispone che si possano celebrare le prime comunioni a partire dalla prima domenica di ottobre la celebrazione delle cresime temporaneamente sospesa secondo l'attuale protocollo tra governo e cei si chiederà alla cei di farne oggetto di riflessione nel tavolo di lavoro con il governo in merito alla richiesta di celebrazione dei matrimoni di domenica o in luoghi diversi dall'aula liturgica i vescovi dispongono che in quelle diocesi dove il sacramento del matrimonio non si celebra di domenica la norma continui ad essere vigente non è consentita poi la celebrazione del matrimonio in luoghi diversi dall'aula liturgica sua propria secondo la norma del codice di diritto canonico infine restano sospese le processioni in particolare in attesa di una interpretazione più soddisfacente del recente decreto 11 giugno 2020 del ministero sulle modalità di svolgimento delle processioni religiose soprattutto in ordine alla sicurezza sanitaria e all'attribuzione delle responsabilità si conferma quanto già stabilito e cioè le processioni e le feste patronali peraltro già non consentite dall'attuale prescrizione del governo restano sospese fino a nuove disposizioni rientrano in tale provvedimento anche quelle manifestazioni che prevedano pur senza il concorso di popolo il portare la statua del santo per le strade il divieto delle feste patronali è motivato anche dalla drammatica crisi sociale seguita all'emergenza sanitaria non sarebbe tollerabile assistere a feste utilizzando le offerte della gente mentre aumentano i poveri di Studiumatro di Studium di Studium di Studium di humidity ti al dublare ad OFF aiutate ho